Piedro Cangemi di Torregrotta, prima giornata del campionato Under 17 regionale siciliano per il Girone C, il Torregrotta di Mister Meo, ospite il comprensorio del Tindari Under 17, un ritorno nel massimo campionato regionale giovanile per quanto concerne classe 2007-2008 per il Torregrotta, ripescato in questa stagione schiera un 4-3-3 il tecnico torrese di fronte a Marino Isaia, Gilio Triolo e Pino in mediana giro. Zirilli Arimondi e Restuccia con Bombaci e Rante, Samuele Pino a comporre il tridente, direzione di gara affidata dal signor Ayrton Scolaro e la sezione di Barcellona Pozzo di Cotto, osservata anche al Pietro Gangemi, un minuto di raccoglimento in memoria del presidente Giorgio Napolitano. Grazie alle immagini di Francesco Morabito possiamo passare a raccontarvi del fin di questa sfida che si avrà al 19esimo col primo tentativo di Pino, bloccato da Rusciani al 20esimo, la spizzata di testa per Maimone che scappa via sull'auto destro, attento però l'estremo difensore Marino a dirgli no, un minuto più tardi è Restuccia a scheggiare il legno alla destra di Rusciani, minuto 24, angolo per il Torregrotta in precaria condizione di equilibrio, Catalfomo si autocolpisce la mano, massima punizione accordata dal fischietto Scolaro alla battuta, va Pino, spiazza Rusciani, vantaggio del Torregrotta, segna il numero 10, rispondono gli ospiti però con Mangone che tira a giro, Marino anche in questa occasione attento a distendersi alla sua destra, minuto 32, Bombaci manda in verticale errante che trova i tempi giusti per andare sul fondo, c'è tutto solo Pino e mezzo all'aria, Pino taglia sul primo palo e fa 2 a 0, minuto 32, già la doppietta per il numero 10 di Mr. Meo, accorcia le distanze però il comprensore del Tindari con il colpo di testa di Aiello deviato, inganna Marino, c'è ancora speranza allora per il Tindari, al quarantesimo Maimone fa tutto da solo, difende la sfera, scappa via destra, prende il centro del campo, ancora Maimone col 7 sulle spalle, arma il mancino Maimone, sotto l'incrocio dei pali, un euro goal al Pietro Gangemi, quello che vale il 2 a 2 al comprensore del Tindari, fa tutto benissimo, ristabilita la parità del punteggio Piove sul bagnato, al quarantatresimo espulso, Bombaci tra le file, Torresi per proteste, ultima emozione di questa prima frazione di gioco però ancora di marca, rosso-blu al primo dei due minuti di recupero concessi dal signor Scolaro, recupero palla Torrese con Zirilli che ci prova col destro, lascia il parlone Rusciani, ancora Zirilli a porta sguarnita, manda alle stelle, va così in archivio la prima frazione di gioco sul parziale di due reti a due, pesca, allora energie fresche dalla panchina Mr. Meo, dentro De Gaetano e Maieli, dall'inizio al minuto 55, da un rilancio della difesa, Pino si invola tra le maglie immobili e la retroguardia del comprensore del Tindari a 2x2 con Rusciani, sterza sul destro Pino, pallone nella borsa, tripletta e 3 a 2 per il Torregrotta, tre redi del numero 10 all'ora di gioco dentro anche Giordano, comprensore del Tindari che però non ci sta, vuol rientrare in partita con Molica per la testa di Maimone, Marino pare con l'ausilio della traversa, salva il risultato, 3 minuti più tardi ancora Molica a fare il solco sul binario di competenza, cross dentro per Catalfamo, seconda traversa per il comprensore del Tindari e poi Marino a salvare il risultato, minuto 72, spazio anche a Di Giovanni, il comprensore del Tindari continua a premere in virtù anche della superiorità numerica, terzo legno di giornata, terza traversa a salvare Marino, il Fortino del Torregrotta però cadrà al minuto 80 con Maimone che mette dentro per Catalfamo, il Lob questa volta è vincente, non può nulla Marino sorpreso da questa traiettoria, palla che si insacca sul secondo palo, 3 a 3 al Pietro Gangemi, assegnato Catalfamo nel finale, spazio anche a Leone, ultima emozione di marca ospite con Marino del comprensore che si sposta il pallone sul mancino, impegna severamente il collega avversario che in qualche modo si salva e salva anche il risultato, va così in archivio questa prima giornata del campionato Under 17 regionale siciliano, Torregrotta con prensore del Tindari è già storia ed è finita per 3 a 3, un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito, alla prossima!